eccomi qua all'interno del vino sport praticamente un centro commerciale tutto fatto in stile tipo europeo italiana insomma chiamatelo come volete come vedete il cielo è stato dipinto con gli effetti di luce sembra proprio realistico direi è molto molto carino poi ci sono vari negozi questo tipo portofino un po tutti italiani qui invece c'è una cosa credo sia temporaneo tipo su di quelli tipo ippino poi si può anche andare al piano di sopra poi ci vado adesso vi faccio vedere la in fondo che c'è una fontana è una fontana molto bella ve la volevo far vedere adesso vi sto facendo vedere così velocemente tutta la carrellata di vino sport quindi eccola qua la fontana sembra un po la galleria di milano no? queste cose qua sopra così e guardate che carina la fontana poi ci sono altre strade eh la dentro la dentro ecchi adesso non ve le faccio vedere c'è questa fontana molto particolare e sono all'interno non solo all'esterno anche se potrebbe ci andare ok da vino sport è tutto magari vi faccio vedere qualche altra cosa qui a Odaiba Doppolo 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 Grazie a tutti.